Ah, questo è un bel momento. Amo l'aria di Parisi e i sorrisi che mi fa quando canta o balla è bella la Parisi che sensazioni dà. Ed è Parisi! Come stai? Buonasera a tutti. Edwin! Forte! Finalmente! Era ora che facevamo una cosa insieme. Finalmente! Sono anni, si dice. Anni, anni, anni. Banfi, Parigi, se Parisi avesse il mero sarebbe tutte queste cose. Adesso finalmente lavoriamo insieme. Finalmente. Io sono contentissimo, sai? Anch'io, felicissima. Però in Italia si usa che quando due artisti si devono affiatare devono entrare un po' in simbiosi. Sì? Simbiosi. Allora noi dobbiamo simbolizzare. Sì, più o meno, insomma. Vabbè, comunque, si deve dire una cosa. Dobbiamo familiarizzare, dobbiamo capirci meglio. Ti devo dire una cosa? Sì. Sto aspettando di dirti. È una confessione praticamente nerovisione. La gente, per me, vede Lino Banfi come un attore comico, come un presentatore. Invece è molto, molto di più. Ve lo dico io, credetemi. Esempio. È bello Lino Banfi, no? Sì! Guardate i muscoli. Sono muscoli da ballerino. No? Sì, sì. Sì! E allora? E allora? Facciamo una cosa insieme? Ci piace questa cosa. A me sì, tanto. In più, io un giorno vorrei fare... Che cosa? Vorresti fare come è dal 14 gennaio, dal Teatro delle Vitorie, ogni sabato sera per sette settimane, carneole. Guardate, io con te farei carnevale, Pasqua, Capodanno, le tifania, tutti. Va bene. Allora, allora, signori, facciamo una cosa. Prima di tutto bisogna fare una lezione di danza classica. Classica. Ok? Sì. Allora, prima di tutto, possiamo avere una cosa un po' classicheggiante? Un po' classicheggiante. Ok, dammi la manina. Quinta posizione. Allora, plie, su, su, Batman, 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 Batman. Allora, preparazione, pirouette. Preparazione, pirouette. Oh! Allora, quinta, preparazione, quinta, tonne, pad de bourrée. Di che? Parabesco. Quinta? Tombé. Tombé, pan de bourrée, marmele. Ok. Stai tremendo. Va bene. Allora, lezione, benissimo. Cantiamo, dobbiamo cantare un po'. Sì. In inglese. In inglese. Va bene. Però lentamente all'inizio. Lentamente. Io ti vengo a presto. Molto, molto lento. Quello che dici tu io, ripeto. Devi fare una pirouette dopo e devi interaggiungere un occhio. Lo che dici tu io, ripeto. Sweet. Perdoe, perdoe. What good is melody, what good is music. che il fede impossessi santisti C'è un moscerino? C'è un moscerino che... Ho sbagliato? Cosa stavi dicendo? Che lingue ha già? Niente, senti Heather Sarebbe meglio cambiare la position Heather Per la pace dell'Eurovisione Sarebbe meglio cambiare la position Heather Heather, 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 Heather Eh? Heather Vabbè, facciamo anche... Cambiamo la posizione, è meglio Facciamo più svelto, va? Ok Ok What good is melody? Braio! Oh, what good is music if it ain't possessin' somethin' sweet? Oh, nina! What good is melody? What good is music if it ain't possessin' somethin' sweet? Oh, yeah! What a... It don't mean a thing if it ain't got that sweet... Tua, 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 tua... Vai! It don't mean a thing if it ain't got that sweet... Tua, 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 tua... Vivo! عة, ta, tua, 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 tua... Een... Non l'abbiamo fatta a posto? Che è successo? Che lingua stavi cantando? Che cosa stavi dicendo? It makes no difference if it's sweet or hot Difference Sweet or hot Un, due Lì non siamo in Eurovisione ma non ti vergogni scusa? Ma perché mi rimproveri? Scusa, è vero che ha fatto bene in prova? Ma cosa sto facendo? Sì ma se tu mi rimproveri e mi guardi con quegli occhi malupini belli azzurri ti prego amore Allora ripeti dopo di me scusate una prova Pianto le quinte anche se siamo davanti It makes no It makes no Difference Difference If it's sweet If it's sweet Or hot Or hot Ma senti Un, due ? Chagherino! 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 Regno Pantone! E' del Parisi!